Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6 Una perturbazione atlantica in movimento verso est La notiamo anche dal satellite che sta coinvolgendo la Sardegna Nelle prossime ore raggiungerà il centro Italia Porterà qualche temporale, qualche acquazione Specie sul versante tirrenico In Abruzzo nel corso di questo giovedì avremo qualche fenomeno tra la notte e le prime ore del mattino Poi un rapido miglioramento, infatti la perturbazione sarà abbastanza veloce Si muoverà rapidamente verso i Balcani e la Grecia Al mattino ancora delle piogge sparse, specie a ridosso dei monti e delle coline Qualche nevicata a oltre 1.000-1.200 metri di altitudine Spazi soleggiati in aumento dalla tarda al mattino e poi soprattutto dal pomeriggio Su tutto l'Abruzzo Temperature in aumento massime fino a 17 gradi sulle coste alle basse quote Minime tra i 3 e i 9 gradi Con questo è tutto, grazie per l'attenzione Arrivederci al prossimo aggiornamento Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie a tutti